Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui con una ricetta alquanto strana, perdonate per la maglietta, guardate che simpatica, me l'hanno regalata qualche giorno fa. Oggi faremo una ricetta davvero particolare, utilizzeremo il salmone selvaggio dell'Alaska, ma potete comprare anche quello norvegese, normale, questo è di qualità un po' superiore. Una sera andai a mangiare in un ristorante a Roma, in zona Vermicino, ero con la mia ex fidanzata, stavamo cenando, è venuto il cameriere e mi ha detto, chef ti voglio far assaggiare una cosa, e io gli ho detto, va bene, che cosa? Una fettuccina che si chiamava la fettuccina all'amario, ovvero il titolare del ristorante Maroncio, che saluto se mai vi dovesse vedere, ed era fatta con salmone affumicato, panna, corgozzola e tartufo, qui sono tutti gli ingredienti, sembreranno strani, anzi sembreranno anche un po' chef ruffi utilizzando la versatile, però vi devo dire che dopo averla assaggiata era veramente, veramente buona e così ho iniziato a farla anch'io, tanto che quando lavoravo a Piazza Navona facevo impazzire tutti i venditori di quadri. Allora iniziamo questa ricetta, mettiamo un filo d'olio extravergine d'oliva in padella, senza esagerare, poi prendiamo il nostro salmone e andiamolo a tagliare a pezzettini, come vi piace, o all'istarelli o lo fate a bocconcini. Una volta sminuzzato, lo mettiamo in padella e andiamo sul fuoco. Iniziamo facendo rosolare il salmone, non troppo più violentemente, se vi piace potete mettere anche uno spicchetto d'aglio, ma non serve altrimenti andremo a mischiare davvero troppi ingredienti. Mentre il nostro salmone rosola e ci siamo quasi, andiamo a calare le nostre pettuccine. Guardate, è un piatto strano, ma davvero davvero gustoso, non me lo aspettavo neanche io. Ok, il nostro salmone è pronto, andiamo ad aggiungere un goccettino di panna liquida, non la panna da cucina quella densa, quindi senza esagerare, vedete? Ok, e lasciamo cuocere a fuoco dolce. Dopo andiamo ad aggiungere un po' di gorgonzola, anche questo pochissimo, vedete? Questo è una tasa per una persona, come direbbe il mio vecchio chef, di tutto un po'. E facciamo sciogliere il gorgonzola. Ecco, questa è la densità che volevamo ottenere. Aggiungiamo un pizzico di pepe, una macinata di pepe, e ora andiamo a scolare la pasta. Facciamo tirare la nostra cremina, vedete? Ci siamo quasi, quindi solo ora, alla fine, andiamo ad aggiungere il nostro tartufo. Anche questo, senza esagerare, altrimenti rischia di diventare un mappazzone. Quindi, proprio poco tartufo, e finiamo la manteca. Non immaginate che profumo! Guarda, ringrazio il cielo che quel giorno la mia ex fidanzata mi portò in quel ristorante, quindi tutti i mali non vengono per nuocere, vedete? Adesso ci vogliamo questa bella pasta. Ovviamente, se trema un po' la camera, è papà che non vede la rimangiare, eh! E stare là dietro, trema! Vero papà? Sì! Allora, mettiamo la cremina sopra! E il nostro piatto è pronto! Veloce e di gran gusto! Sbrigatevi a farla perché comincia a fare caldo, eh! Vi mando un grande abbraccio, vi voglio bene e spero che la ricetta mi sia piaciuta! Un bacio a tutti!